Con ordinanza numero 32 del 20 maggio 2020 il direttore dell'ente Parco del Cilento Gregorio Romano ha ordinato lo sgombero da cose e persone dell'area ricadente in una traversa di Corso Umberto I nella frazione San Marco nel comune di Castellabate. L'area in questione si trova nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni. In essa è stato realizzato un muro in blocchi di calcestruzzo a forma di U sviluppato in bracci della lunghezza di 2,30 m, 4,10 m e 5,78 m con altezza di circa 2,30 m. L'abuso fu notificato già tre anni fa quando il comando di polizia municipale di Castellabate, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, accertò in data 1 marzo 2017 la realizzazione degli abusi edilizi in San Marco di Castellabate. L'ente Parco avviò la procedura per il ripristino dello stato dei luoghi. La pratica è stata esaminata poi dalla soprintendenza, la quale chiese ai proprietari dell'area un'integrazione che non è mai stata trasmessa dagli stessi. L'ente Parco a novembre 2019 ha sollecitato il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, quale data utile per la volontaria ottemperanza all'ordinanza. Scaduto il termine, il raggruppamento carabinieri i parchi ha proceduto al sopralluogo verificando l'inottemperanza all'ordine demolitorio. Da qui il provvedimento di demolizione.